Buonasera a tutti, benvenuti al webinar sulla poliposi nasale in età pediatrica. Questa sera con noi è qui la dottoressa Maria Elisa Di Cicco che ci parlerà appunto di questa particolare patologia in età pediatrica. Buonasera dottoressa Di Cicco. Buonasera, allora metto in condivisione le diapositive, sperando che vada tutto. Si vedono come se in presentazione si vedono, si sente tutto? Ok, allora direi di cominciare. Allora intanto buonasera a tutti, grazie mille intanto alla Simbi per l'opportunità e per questi webinar che ripartono con questo primo appuntamento di oggi. Io per chi non mi conosce sono una pediatra e sono ricercatrice presso l'Università di Pisa e ho scelto, ahimè, questo argomento un po' spinoso della poliposi nasale per parlarne con voi questa sera. Un argomento interessante ma come vi dicevo spinoso perché è molto ancora, bisogna essere sinceri, non ne capiamo più che sappiamo. È una condizione questa che conosciamo praticamente già nei tempi degli egizi, quindi non nasce oggi. La prima descrizione viene fatta risalire addirittura dei medici hindu, 150 anni prima che Ippocrate per la prima volta introducesse il termine polipo e mettesse per iscritto le prime procedure un po' rudimentali per la rimozione degli stessi polipi. Ma cosa sono i polipi nasali? Partiamo dalle basi perché spesso si fa confusione anche solo su questo. Allora i polipi nasali altro non sono che delle vere e proprie masse infiammatorie e venigne, come questo che vedete nell'animazione, che derivano dalla mucosa nelle cavità nasali e dei semi paranasali. Sono masse caratterizzate da un marcato edema della mucosa e da un'importante infiltrazione infiammatoria sia nel polipo che nella mucosa circostante. Come vedete hanno questa forma un pochino ad uva, questo dipende in gran parte dalla forza di gravità, ma la loro distribuzione, lo vedremo anche dopo, dipende anche prettamente da meccanismi fisici, ma ne parliamo meglio dopo. Chiaramente queste masse benigne infiammatorie stando lì provocano struzione nasale. Bene, le masse polipo e dipoliti qualche volta le possiamo addirittura vedere in rinoscopia anteriore. Questa è una procedura abbastanza superata, lo sapete, però ve la cito perché è molto banale da fare, ci vogliono due secondi, basta un dito per tirare su la punta del naso o uno speculum o un otoscopio con il cono per dare un'occhiata. E la rinoscopia anteriore ci dà tante informazioni importanti, a partire banalmente dalla valutazione dell'hipertensione dei turbinati, ma appunto in caso di poliposi marcata possiamo addirittura vederle già anche così queste masse. Vedete in questo esempio, questo è un caso, un articolo del New England, vedete l'otoscopio con il cono, questi polipi nel neato medio e vedete qua come appare un polipo, anzi diversi polipi. Vedete che sono delle masse con aspetto gelatinoso, colore giallastro, rosa, grigio e attenzione se vi capita di vedere queste masse anche in rinoscopia anteriore di non confonderle con i turbinati, cosa che è abbastanza facile, vi faccio vedere come. Questa è la testa del turbinato medio ed ematoso, vedete che sembra un polipo, però in realtà è chiaro che quando poi uno l'ispezione la fa in tempo reale dal vivo riesce a accorgersi di dove sta guardando dal punto di vista anatomico e comunque le caratteristiche che come potete vedere sono abbastanza diverse. Sono masse gelatinose, per l'appunto il colorito, ve lo dicevo, dal rosa al giallastro al grigio e quindi insomma intanto la rinoscopia come primo step. Vi dicevo attenzione ai turbinati, questo è un nostro paziente con rinite allergiche di una tite atopica grave e lui alla rinoscopia, vedete basta un dito per sollevare la punta del naso, questa grossa massa che attenzione questo non è un polipo, bensì è un turbinato particolarmente ipertrofico, per dire che questa è una procedura banalissima che però qualche informazione ci può dare. In ogni caso, procedura superata, vi dicevo, la diagnostica della poliposi nasale e in generale delle patologie rinosinusali oggi non può fare a meno dell'endoscopia. L'endoscopia è l'esame principe per questo tipo di patologie, mentre la biopsia in particolare per i polipi nasali è una procedura che non serve di routine, viene fatta di solito nell'adulto quando le masse sono monolaterali o hanno segno di sospetto, anche se laddove doveste avere una biopsia di queste masse, l'informazione istologica può darvi un'indicazione dal punto di vista prognostico. Comunque ripeto, diagnostica endoscopita. Quanto sono frequenti i polipi nasali? Poco, poco, in generale qua vedete questa è una casistica danese, si stima un'incidenza di circa 0,6, vedete sulla popolazione generale ogni mille pazienti all'anno, questa è una casistica di otorini, e se andiamo a vedere la fascia pediatrica, come vedete, fra gli 0 e 9 anni addirittura nessun caso, nella fascia successiva che comunque ci riguarda come pediatri, vedete qualche caso invece viene segnalato pochi, ma comunque esistenti, e quindi li dobbiamo intercettare e indagare come tali. Quindi una condizione, vi dicevo, abbastanza rara, ma non troppo. L'impressione anche personale che forse non la cerchiamo o non l'abbiamo cercata abbastanza in passato. Infatti, se andate a vedere in letteratura, gli studi sulla poliposi in età pediatrica sono scarsissimi, molti sono invece sull'adulto, soprattutto negli ultimi anni, in relazione all'introduzione dei biologici nella terapia, e un altro fattore un pochino limitante è il fatto che automaticamente con la poliposi nasale si pensa alla fibrosicistica, cosa giusta per carità di Dio, ma un po' limitante nel senso che non è solo questa la condizione a cui bisogna pensare di fronte a una poliposi nasale nel bambino. Ma come si classificano i polipi nasali? Questa è una classificazione un pochino vecchia, vedete che risale addirittura nel 91, ma tuttora la trovate riportata nei testi. Diciamo che questa classificazione ci aiuta un pochino, nel senso che vi dà un'idea di che tipi di polipi possiamo incontrare. I primi due tipi sono poliposi isolate, sono i polipi antrocoanali e i polipi coanali isolati. Praticamente i primi sono dei polipi unilaterali che originano dai seni mascellari, gli altri originano invece dai seni etimoidali e spenoidali e in entrambi i casi questi polipi sono abbastanza frequenti nella realità in età pediatrica. Vi faccio vedere un esempio, questo è un polipo antrocoanale, è un caso del New England, questo è un ragazzino di 17 anni che riferisce di aver notato guardandosi allo specchio questa massa senza aver avuto sintomi. Io ho qualche dubbio che non avesse proprio sintomi questo ragazzo, comunque questa grossa massa si fa la PAC, vedete questa marcata aflogosi del seno mascellare di sinistra con questa massa che protrude e arriva fino alla parete posteriore del faringe. Quindi polipo antrocoanale, sono polipi questi che vengono chiamati anche polipi di Chilian, scusate mi tolgo la faccetta mia che mi da noia qua giù, ok, che sono appunto lesioni benigne che rappresentano in pratica il 4-6% di tutti i polipi nasali e questa percentuale sale al 35% se consideriamo i polipi in età pediatrica, quindi abbastanza frequenti. Perché si formano? Non lo sappiamo. C'è chi ritiene che ci possa essere un'ostruzione al deflusso linfatico, chi ritiene che siano originalmente dei cisti ghiandolari, insomma in realtà non lo sappiamo, sappiamo che tendono a prendere questa via per il fenomeno di Bernoulli e in parte per l'effetto della gravità. Fatto sta che questi polipi si rimuovono e in una stragrande maggioranza dei casi non tornano in più, in un 15% possono però recidivare. Per quanto riguarda invece l'altra fetta di polipi, che sono quelli di cui parleremo di più in questo webinar, sono praticamente questi tre gruppi, cioè i polipi associati alla rinosinosite cronica, dominata con flogosi prevalentemente non eosinofilica, oppure eosinofilica, oppure con una sinusite cronica però associata a una patologia specifica, come appunto la fibrosicistica e altre. Quindi parleremo soprattutto di questa fascia qua di polipi, partendo da specificare meglio cos'è la rinosinosite cronica. Chiaramente è una flogosi cronica, cronica vuol dire, lo vedremo fra un attimo, cioè qui, che dura più di 12 settimane, che interessa la mucosa del naso e chiaramente dei semi, che come sapete rappresentano un continuum, tutte le cavità nasali e paranasali sono in connessione tra di loro, se le cose sono, se siamo in condizioni di benessere. La sinusite cronica è un problema abbastanza comune nella popolazione generale, vedete un 5-28% nella popolazione generale, 2-4% in età pediatrica. Parlando di rinosinosite cronica e di poliposi nasale, non potevano citare le linee guida, che sono state appena aggiornate l'anno scorso, questo è un documento, lo trovate su Rinologi, sono più di 400 pagine che vi consiglio di leggere se avete tempo, perché è un documento veramente molto, molto dettagliato e molto interessante, e da queste linee guida si vede come venga mantenuta la distinzione classica di rinosinosite cronica senza polipi nasali o con polipi nasali, specificando che in questa condizione, cioè la rinosinosite cronica con polipi nasali, si intende una condizione di poliposi nasali bilaterale, confermata all'endoscopio, che è prevalentemente a carico del meato medio, quindi in pratica escludendo i polipi isolati di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi le linee guida mantengono questa principale distinzione, con e senza polipi nasali. Ora, dicevamo che sicuramente la poliposi nasale e anche la sinusite cronica non sono frequentissime nel bambino, però bisogna dire che noi i seni paranasali non li consideriamo tanto, proprio per formazione, perché è vero che i polipi nasali sono presenti alla nascita, scusate i polipi, i seni paranasali sono presenti alla nascita solo per quanto riguarda il seno mascellare e l'etmoidale, lo vedete in questa tabella, gli altri compaiono successivamente e tutti raggiungono le dimensioni dell'adulto intorno, ovviamente con variabilità, intorno all'adolescenza. E quindi insomma li consideriamo abbastanza poco. Teniamo presente però che per avere una condizione di benessere, perché venga mantenuto il corretto drenaggio delle secrezioni dei seni paranasali, gli osti devono essere liberi, quindi pensiamo a un bambino piccolo con gli osti più piccoli che ha spesso infezioni nasali, deve essere corretta la produzione di muco e deve funzionare bene l'aclina smuco ciliare e qua si saranno alzate le antenne pensando rispettivamente alla fibrosi cistica e alla discinesia ciliare primaria. Ebbene, in questo contesto vi segnalo che il punto più importante dei seni paranasali è il complesso osteo-natale, ne avete sicuramente sentito parlare, è un punto in cui in pratica converge il drenaggio delle secrezioni dei seni mascellari etnoidali e frontali, quindi avevo detto che il mascellare e l'etnoidale sono presenti già alla nascita, per cui in un bambino piccolino, con dimensioni piccole, con osti piccoli, quindi è chiaro che qualsiasi istruzione a questo livello inevitabilmente rappresenta il primo punto di partenza di una qualsiasi patologia sinusale del bambino. Quindi questo è un punto particolarmente importante. Quindi cosa può succedere? Che per un qualsiasi processo infiammatorio, allergico, una virosi, qualsiasi altra cosa, edema, produzione di muco, il complesso osteo-natale si va a chiudere, si arriva alla rinosinosite acuta, questo di solito capita soprattutto direi in una gran parte dei casi di seguito a una rinite acuta, quindi un fatto virale. Chiaramente la flogosi acuta perpetua l'ostruzione del complesso osteo-natale, quindi si riduce la reazione del seno, si altera la flora microbica, a parte un processo infiammatorio che tende a perpetuarsi in un ciclo vizioso. Questo diciamo come teoria generale. Poi in realtà vedremo che dal punto di vista della flogosi non è molto chiaro cosa effettivamente succede, tantomeno è chiaro il ruolo di batteri in questi contesti. Comunque, per quanto riguarda il bambino, i fattori di rischio per la rinosinosite cronica sono sostanzialmente questi. Rispetto all'adulto, quelli principali sono la ricorrenza dell'infezione a carico degli altri di aeree, gli osti particolarmente piccoli, l'immaturità del sistema immunitario, ma soprattutto, e questo ve lo sottolineo, la presenza delle adenoidi, ingrandite ovviamente, ipertrofiche. Questo ve lo sottolineo perché la letteratura stressa molto questo punto, che anche qui forse noi pediatri consideriamo abbastanza giusto, invece è importante pensarci. Perché? Perché le adenoidi, come sapete, fanno parte dell'anello del Valdaier, hanno un ruolo importantissimo per quanto riguarda la difesa. sappiamo come le adenoidi, in parte, in maniera parafisiologica, tendono a ipertrofizzarsi nei primi anni di vita, fino intorno ai 6-7 anni, che poi ne ricontano a regressioni. L'ipertrofia dell'idea diventa marcata in un 34% circa di bambini, ma al di là di quello, diciamo che la presenza di questo tessuto, in questo punto particolare, cosa provoca? provoca sostanzialmente in un bimbo che ha spazi anatomicamente più piccoli, eccetera, eccetera, un ostacolo al normale diffusso, diciamo al passaggio delle segrezioni, e quindi una ritenzione di muco. Quindi pensate, un quadro infiammatorio, una rinite, una rinosinosite, con tanto muco che ulteriormente tende a non riuscire ad andare oltre al distretto rinosinosale. Per cui, tanto ostruzione puramente meccanica, ma ancora più importante, direi, è il fatto che le adenoidi rappresentano un reservoir di batteri. Tantissimi studi hanno dimostrato che sulle adenoidi sono presenti i biofilm assolutamente analoghi a quelli presenti nei semi paranasali e in tutto il distretto nasale, nei pazienti che hanno una sinusite cronica, e quindi rappresentano un verore reservoir che tende a perpetuare anche la componente batterica in un contesto di flogosi cronica come questo. Quindi, diciamo, le adenoidi, soprattutto i bambini piccoli, hanno un ruolo veramente importante. Tant'è vero che poi lo vedremo alla fine, le linee guida sottolineano l'importanza della adenoidectomina in questi pazienti. Ma ne parleremo poi meglio dopo. Comunque, rispetto ai fattori di rischio, abbiamo già visto il discorso anatomico, le dimensioni, le infezioni, anche l'allergia. Più dubbio è il ruolo del flusso gastroesofageo in età pediatrica, mentre è molto, molto importante il ruolo dell'esposizione al fumo, che rappresenta un fattore di rischio per la rinossinusite cronica del bambino, ma anche per rinossinusite croniche particolarmente importanti per il divanità. Chiaramente, come abbiamo già detto prima, molto importante è il ruolo di patologie croniche, ma anche di questo parleremo meglio tra un pochino. Ora, le linee guida appena aggiornate definiscono nel bambino la rinossinusite come segue, cioè la presenza di due o più sintomi, di cui uno deve essere l'ostruzione nasale, oppure lo scolo di muco, che può essere anteriore o posteriore, quindi il nasal drip, insieme all'eventuale dolore al viso, spontaneo o dopo pressione, insieme alla tosse, e questa ve la sottolineo, ne parleremo fra un attimo. Quindi i sintomi sono questi, sostanzialmente l'ostruzione nasale, lo scolo di muco, il dolore e la tosse, insieme a un'evidenza strumentale che deve essere endoscopica o di poliposi nasale, o di presenza di segrezioni muco purulente, o comunque di flogosi e ostruzione a livello del miato medio, insomma nella zona del miato medio, oppure se ha l'attacca di un'ostruzione del complesso osteo-miatale o comunque di flogosi di semi paranasali. Quindi questo, diciamo, è il contesto in cui dovremmo fare questo tipo di diagnosi. Perché vi ha sottolineato la tosse? Perché in realtà nell'adulto questa manifestazione non viene considerata nell'advino sinusite. Viene piuttosto inserito l'anosmia e l'iposmia, che tra l'altro è particolarmente severa in chi ha poliposi nasale. Nel bambino non viene inserita perché è un sintomo che i bambini difficilmente riescono a riferire e nei bambini, proprio per la conformazione anatomica e tutto quello che abbiamo detto anche prima, il fatto di avere flogosi cronica con segrezioni abbondanti prodotte in maniera cronica, fa sì che gran parte delle segrezioni vadano posteriormente, il gocciolamento retronasale, il post nasal drip, stimolando i recettori della tosse, le retrofaringe, quindi scatenando la tosse, soprattutto di notte, ovviamente per motivi proprio posturali. Quindi tosse che può essere secca o grassa, chiaramente non isolata, ma con le altre cose che abbiamo detto. Rispetto all'ostruzione nasale, vi sottolineo che l'ostruzione nasale porta il bambino a respirare con la bocca, quindi non pensiamo subito che un bambino lì abbia solo le adenoidi per trofiche, ma pensiamo che possa avere eventualmente anche una rinosinosite cronica. Per quanto riguarda lo scolo del muco, non vi fate fregare dal fatto che appunto le secrezioni possono essere anche solo posteriori, quindi non è che se il bambino ha una selezione anteriori non ha la sinusite. Quindi teniamo presente questi piccoli dettagli che però fanno la differenza. Quindi clinica, endoscopia, che ruolo hanno l'attacca e la risonanza? Allora, chiaramente la diagnosi è inizialmente clinica ed endoscopica, certamente. Questi esami sono comunque importanti, l'attacca è molto importante per soprattutto il planning chirurgico. Sapete bene come l'attacca sia il test migliore per studiare i semi paranasali, grazie allo studio preciso dell'osso soprattutto, ma è chiaramente espone i bambini a radiazioni, quindi non è il test che facciamo subito, lo facciamo nei casi ricacitranti alle terapie e in casi particolari. La risonanza magnetica, che invece è più tranquilla per l'età pediatrica, però certo ci fa vedere meglio il tessuto molle, quindi ci fa vedere meglio l'estensione della sinusite e le eventuali complicanze, però è meno utile per la parte operativa. Quindi caso per caso si valuta il da farsi anche in accordo con gli otorini che devono gestire questi pazienti insieme a noi, o dovrebbero. Per quanto riguarda l'attacca, vi segnalo che la severità della sinusite può essere scorata con un punteggio che è il, o mai storico, l'Ann McKay, che è questo che vedete qua, che prevede di assegnare un punteggio da 0 a 2 per ciascun seno paranasale, rispetto al grado di opacità che ha il seno e anche il complesso osteomiatale, e dando un massimo di punteggio di 24, oppure 12 per ciascun lato. Uno scorre sopra 5, e vedete che non è 0, nel senso che un pochino di flogosi, se voi fate l'attacca dei seni paranasali a tutti gli indi, ovviamente la troverete sempre, perché abbiamo detto naso in continuità con dei seni paranasali, basta un po' di raffreddore, chiaramente un po' di flogosi la trovate anche lì. Diciamo che uno scorre sopra maggiore o uguale a 5 è sufficientemente buono per dirci se il bambino lì ha effettivamente una sinusite cronica oppure no. Quindi scorre di l'Ann McKay. Però siamo già a uno step diagnostico un pochino avanzato. Ora, abbiamo già detto diverse cose, abbiamo parlato un pochino dei poli, un pochino della sinusite cronica, però mi sarà venuto in mente che alla fine cosa vi ho detto? Vi ho detto che la sinusite cronica è una sindrome clinica, con quei sintomi, sì facciamo l'endoscopia, però alla fine sì l'infiammazione è cronica, dura 12 settimane. Ma cosa abbiamo detto rispetto all'infiammazione, all'eziologia, alla patogenesi? Poco. Abbiamo detto veramente poco se non quasi nulla. Questo perché? Perché alla fine il termine di rinosinosite non è altro che il termine ombrello, che è anche l'asma, che è anche l'anemia, che è anche l'artrite, cioè sono termini un po' generici che mettono sotto di sé patologie con diversi fenotipi, endotipi anche, soprattutto lo vedremo meglio, nel senso che oggi sappiamo che la rinosinosite esiste in vari endotipi infiammatori, con dei marker biologici appositi, con infiammazioni di vario tipo, con diversa interazione con l'ambiente batterico, con tutta una serie di particolarità che, diciamo, non può farci pensare che si tratta di una sola patologia con stesse caratteristiche per tutti. Figuriamoci in età pediatrica. Eppure, questo lo sappiamo oggi, considerate che negli ultimi vent'anni il concetto era questo. Sinusite senza palipinasali, ma sarà una forma batterica ben trattata, antibiotici, sistemici, locali, e andiamo avanti così. Con palipinasali, probabilmente un'allergia, corticosteroide e così via. In realtà, appunto, questa è una valutazione molto molto semplicistica. Oggi l'idea è che la sinusite cronica, laddove non ci sia una patologia sistemica sottostante, un'altra patologia sottostante, è una patologia caratterizzata da una interazione patologica tra l'ambiente e l'ospite. E questo vi ricorda, immagino, un po' l'asma. In effetti è proprio così. Pensando a questo rapporto disfunzionale tra ospite e ambiente, si è studiato il ruolo nella sinusite cronica di batteri come lo staphylococco, dei funghi, di disbiosi in generale. Ma in realtà, come vi dicevo, non è chiaro il ruolo di batteri in queste forme, perché dai tentativi terapeutici non hanno dato soluzione a questo tipo di problema. Quindi ora ci siamo spostati a qualcosa di diverso, cioè in questo momento l'interesse è tutto rivolto all'infiammazione, proprio come per l'asma. Cioè ormai si pensa che la sinusite cronica, ripeto, laddove non ci sia una patologia sottostante, non sia altro che una patologia infiammatoria delle altre vie aeree, proprio come l'asma lo è per le basse vie aeree. Capite che cambia molto l'approccio rispetto a questa patologia. E rispetto a questo, proprio come nell'asma, si è arrivati a capire che la barriera, la mucosa è alterata e quindi diciamo che la barriera mucosale che normalmente permette di arrivare alla tolleranza, che ci difende, eccetera, qui è alterata e quindi si avvia una serie di processi infiammatori che tendono a perpetuarsi. E quindi vedete che siamo arrivati a un concetto di una patologia multifattoriale con questa interazione fra ambiente e ospite, alterazione della barriera, endotipo infiammatorio e a seconda dell'endotipo infiammatorio avremo un tipo di rimodellamento che può potenzialmente portare alla poliposi. E quindi tutto questo processo è molto verosimile che cominci in età pediatrica. Quindi ancora dobbiamo capire, ma probabilmente gran parte delle poliposi dell'adulto cominciano nel bambino. Questa diapositiva che sembra un po' complessa, in effetti forse un po' lo è, vi fa vedere quali sono gli endotipi infiammatori attualmente in studio per la rinossimusite cronica. Per far vedere in maniera più semplice possibile, diciamo che una volta che c'è il danno di barriera con l'attivazione della flogosi, le vie infiammatorie sono di tre tipi, un tipo 1 caratterizzato dalle citochine interferon gamma, TMF alfa, il tipo 2, l'interlochina 4, 5 e 13 e il tipo 3, l'interlochina 17 e 22. Queste tre vie sono pensate nel sistema immunitario rispettivamente per combattere i virus, i parassiti, i batteri infundi. Nel caso della flogosi cronica della rinossimusite, probabilmente in qualche parte, diciamo, un po' tutte le vie vengono attivate, però si sta sempre di più vedendo come nei vari soggetti ci sia una predominanza dell'una o dell'altro tipo di flogosi. Cosa voglio dire? Che, per esempio, nei soggetti in cui è preveminante il tipo 1 o il tipo 3, che peraltro sono anche quelli meno studiati al momento, ebbene in questi casi la flogosi è tipicamente neutrofilica, e lo vedete qua. Oppi, scusate, ho spiacciato qualcosa. È tipicamente neutrofilica. Invece, per quanto riguarda il tipo 2, che è quello più studiato, in questo caso la flogosi è tipicamente esinofilica. E, peraltro, in questo sottotipo particolarmente studiato, sappiamo oggi che questa flogosi particolarmente marcata è quella che più facilmente porta al rimodellamento e, in particolare, alla poliposi. Non è che la flogosi neutrofilica non porti alla poliposi nasale, ma certamente il percentuale è molto, molto minore. E, peraltro, le forme di tipo 2 sono anche quelle più resistenti alle terapie. Vi dicevo che il tipo 2, il tipo, diciamo, la forma neutrofilica non è che non porti alla poliposi. Qui, in questo specchietto, vedete, c'è scritto che la maggior parte della poliposi nasale in Europa è legata a una formazione tipo 2, quindi esinofilica, ma in Asia, dove la poliposi è levemente inferiore rispetto alla prevalenza che abbiamo noi, ma in ogni caso, lì è prevalentemente neutrofilica. Quindi, per carità, ci saranno anche fattori etnici, ma anche genetici, insomma, qualche studio c'è, ma ancora non risolutivi su questi aspetti. Ma per dirvi che il rimodellamento della flogosi cronica, della sinusite c'è comunque, ma sicuramente quella che porta a poliposi nasale più tipicamente è quella osinofilica. Detto questo, tutto quello che vi ho detto è studiato sull'adulto, per cui è difficile capire cosa avviene nel bambino. Quello che sappiamo è che la flogosi nel bambino è una flogosi prevalentemente neutrocitica e neutrofilica, ma in quei pochi studi relativi alla sinusite cronica nel bambino, e anche nella poliposi. Ma questo è vero soprattutto nei bambini piccoli. Quindi è probabile, nei bambini piccoli, quindi quelli che hanno l'ipertrofia dell'idea, o quelle cose che abbiamo detto prima, ci sia una flogosi cronica più neutrofilica, nei bambini invece più grandi, piano piano diventi più osinofilica e quindi si avvicini alla flogosi dell'adulto. Quindi avete già capito che è un quadro molto complesso di cui ancora tante cose non sappiamo. Ma vediamo come la rinosinusite cronica, a poliposi, si associano alla rinite allergica e all'asma. Oggi l'idea delle vie aeree unite è un concetto che conosciamo tutti, le vie aeree inferiori non sono distretti separati, ma sono uniti, si condizionano l'uno con l'altro, e quindi chiaramente ce lo aspettiamo anche per quanto riguarda questi aspetti. E in particolare per la rinite allergica, rinite allergica, flogosi, rinosinusite. Allora diciamo che se questa cosa è abbastanza logica, in realtà in letteratura questo tema è abbastanza controverso. Diciamo che le casistiche non sono per nulla concordi, questa è una casistica pediatrica su 4.000 bambini con rinosinusite cronica, vedete che in effetti la rinite allergica è abbastanza prevalente, sono il 27% dei casi, quindi addirittura più delle altre patologie sistemiche. In realtà molti altri dati non confermano queste percentuali, sia nel bambino che nell'adulto. Per farvela breve, pensate che per quanto riguarda i polipinasali, questi sono riportati come meno comuni nei pazienti con rinite allergica rispetto alla proporzione generale, quindi qualcosina non torna. E quindi questo link non è affatto chiaro. Quello che sappiamo oggi rispetto all'allergia è che l'allergia ha un ruolo determinante nella rinosinusite cronica anche con poliposi in alcuni endotipi particolari. Capisco che è un po' complesso, ma seguitemi nel ragionamento. Diciamo che la rinite allergica globale, cioè il nostro paziente con una rinite allergica da acari o polipi, scusate, polipi, difficilmente arriva a fare una rinosinusite cronica con poliposi. Nei casi invece, per esempio, dei pazienti che sono allergici ai funghi come all'aspergillo, agli zigomiceti, si può sviluppare una sinusite fungina allergica molto grave come questa. Vedete, c'è una flogosi marcatissima di semi paranasali, solitamente unilaterale, con espansione di semi senza marcatissima erosione dell'osso, che può dare poliposi e proptosi oculare. Quindi questa è una flogosi tipicamente allergica, IgE mediata, cioè da ipersessività di tipo 1. Quindi qui l'allergia sicuramente è un fattore causale importante. Analogamente questo avviene per quanto riguarda una variante di rinosinusite con polipi, recentemente descritta nell'adulto, ma che verosimilmente ci aspetteremo di vedere anche nel bambino, ovvero questa malattia atopica del compartimento centrale. Cioè praticamente sarebbe questa una forma di flogosi marcata con formazione di polipi e marcato edema del turbinato medio, quindi porzione più anteriore del naso, che sembrerebbe essere legata alla continua inhalazione di allergeni inalanti nel soggetto allergico. Cioè quel soggetto allergico ha la polvere che continuamente inhala gli allergeni e quindi quelli fisicamente vanno a impattare lì scatenando la flogosi eccetera eccetera. Questo è stato recentemente descritto nel bambino ancora, ovviamente non sappiamo nulla. Però per dirvi che sicuramente per l'allergia queste due condizioni sono importanti. Sulla rinita allergica non è chiara l'associazione, probabilmente però la flogosi della rinita allergica è un fattore, come abbiamo già detto prima, favorente la rinosinusite in generale. Vi segnalo l'importanza anche delle riniti non allergiche, in particolare queste cellulari che sapete si diagnostica con la citologia nasale. Perché? Perché questo tipo di riniti non allergiche, che sono abbastanza frequenti nel bambino, sempre di più sembrano essere coinvolte proprio in queste forme di rinosinusite che poi l'adulto sviluppa successivamente con flogosi e osinofilica soprattutto e che quindi dovremmo cercare di intercettare il più possibile in età pediatrica. Però questa è un'altra storia e magari se ne parlerà un'altra volta. Rispetto all'asma invece, le evidenze sono tutte concordi. La rinosinusite cronica è associata all'asma con percentuali variabili dal 17%, ma quello che sappiamo per certo è che questa associazione è particolarmente stretta nei soggetti che hanno un'asma con flogosi di tipo 2. E in questi pazienti la rinosinusite si associa a poliposi nasale che sono i pazienti che hanno asmo grave. Quindi verosimilmente questa flogosi di tipo 2, che quindi coinvolge tutto il distretto a alte basse di aeree, diciamo che fa sì che queste condizioni siano manifestazioni diverse della stessa patologia infiammatoria. Questa lasciamo a parte. Volevo sottolinearvi come, attenzione, forse l'avete già richiamato da voi, come siamo nell'invotivizzazione dell'asma. Cioè anche nell'asma sempre di più parliamo di infiammazioni di tipo 2 o di tipo 1 oppure di basso livello di flogosi di tipo 2. E quindi proprio in questi pazienti con flogosi di tipo 2, che vi dicevo poco fa, come vedete, quindi marcatori di osinofilia, feno, eccetera, poliposi nasale e asma grave, quindi con scarsa risposta all'isteroide, esacerbazione e così via. Quindi vedete, come vi dicevo, stesso, diciamo, manifestazioni diverse della stessa malattia. Anche rispetto al rimodellamento, è interessante vedere come nell'asma isinofilico classico di tipo 2 abbiamo il classico rimodellamento della parete con collagene, spessimento, eccetera, idem nella rinosinusite cronica con polipi, ovviamente i polipi di TSE sono il segno del rimodellamento. Come abbiamo detto, anche nella sinusite nitrofilica c'è una quota di rimodellamento, alle volte anche con poliposi, ma in questo caso il rimodellamento è più a carico di turbinati che sono ipertrofici. Da notare come un'anita allergica, invece, il rimodellamento non è segnalato. Quindi, come vi dicevo prima, questa correlazione è stretta, non c'è. Può essere che qualcosa ci scusi, perché forse è un'anita allergica in parte è un passo di soci da questa patologia che unisce asma e rinosinusite con poliposi. Ultimo accenno sull'asma è questo. Vi ricordo che esiste la triade di Santer o Vidal, non se ne parlava più come Vidal in tempo, che è la triade che unisce l'asma, la poliposi nasale, con un'allergia all'aspirina e o ai fans in generale. In pratica sono proprio un sottotipo questi pazienti di poliposi nasale che sono, tra l'altro, particolarmente importanti come severità della poliposi che tende a ricorrere molto frequentemente. Ve lo sottolineo perché questa patologia viene spesso considerata a carico esclusivamente dell'adulto, ma non è proprio così. Ci sono diverse casistiche, come questa, che richiamano l'attenzione al fatto che questa patologia può essere elevata anche in età pediatrica. Il problema è la diagnosi. Perché? Perché di solito la diagnosi di questo tipo di problema viene fatta sulla base dei sintomi respiratori che insorgono dopo la somministrazione del fans e dell'aspirina in particolare. L'aspirina che noi in età pediatrica non usiamo. Quindi non è sempre facile capirlo. Nell'adulto o in chi ha avuto sintomi certamente sì. Quindi comunque bisogna indagare l'eventuale allergia al fans o all'aspirina. E dall'iniglina, se abbiamo pazienti pediatrici con poliposi nasale severa, dobbiamo prendere in considerazione questa condizione eventualmente valutando con l'allermologo se può servire un challenge con un fans o con l'aspirina. Quindi tenetela presente rara ma possibile. Ora l'ultima cosa prima di parlare del trattamento un accenno alle malattie sisteriche. Perché ovviamente non possiamo dimenticarcelo. Ve lo dicevo all'inizio. Poliposi nasale, fibosi cistica, giusto. Ma non dimentichiamoci di altre condizioni. E per parlare di questo vi accenno al caso clinico. Questo è il nostro paziente di 16 anni che ci ha fatto parecchio penare l'anno scorso. Ed è un paziente che ha una storia di rinite cronica dall'età di 3 anni con salvazione a salve, minorrea, eccetera. Prova allergologiche più volte negative. A 14 anni comincia a soffrire di cefalea importante. Fino ad andare un giorno in pronto soccorso. Fa un attack. Viene messa in evidenza una pan-sinosopatia come la vedete cronica. Insomma, la vedete abbastanza bene. I temoidali, i nascellari, frontali. E vabbè. Passa così. Non gli viene data nessuna indicazione particolare. Passa qualche mese e viene ricoverato per un episodio di insufficienza respiratoria acuta. Il primo. Non aveva mai avuto problemi respiratori. Viene ricoverato per un episodio broncostruttivo importante. Ha esame obiettivo a una marcata rinolalia, sostituzione nasale. E vabbè. Viene trattato per l'episodio acuto, pensando forse a una forma effettiva. Viene messo comunque in terapia colisteroide, visto anche il quadro di interessamento nasale. E successivamente comunque qualche episodio di broncostruzione continua a comparire. Fino a che, nell'ottobre del 19, ha un episodio importante di dispnea ingravescente, o meglio, scusate, una dispnea ingravescente, a cui si associa una tosse catarrale produttiva, quindi spettorava questo bimbo, questo ragazzo, la mattina. Calo ponderale importante e all'ascoltazione geniti in ed espiratori diffusi. Lo vediamo in ambulatorio e questa è la sua spirometria. Quindi una grave ostruzione generale, marcata in particolare a carico delle diarie periferiche, con la dilatazione limitativa. Ovviamente il ragazzo non ci piace, calo ponderale, questo qua, insomma, proprio è maciato come aspetto, quindi facciamo anche un po' di esami del sangue, celiachia, tiroide, nici di flogosi, l'emocromo, le prove allergologiche, tutto all'immagine. Le mettiamo la terapia, uno steroide con un laba, la zetromicina, vista la tosse catarrale, il predilisone del salbutamolo per l'accesso acuto sulla di broncostruzione, aggiungiamo un po' di terapia nasale, da un mese effettivamente sta un pochino meglio, la spirometria si normalizza, ma continua ad avere tosse catarrale, quasi quotidiana. Facciamo una coltura dell'espettorato, positivo per sapidococcus aurus, però contaminato, boh, quindi insomma, aspetta e prendiamo tempo. Rifacciamo gli esami a distanza, nulla di particolare a parte le igie totali un pochino aumentate, facciamo anche il test del sudore, visto anche lo stato generale del ragazzo, mutazioni di CFTR negative, C anche pianca negativa, quindi insomma, non riusciamo a capire bene cosa. Alla fine, visto il persistere della tosse catarrale, facciamo una tc del torace che mostra bronchiole e clasie a carico di entrambi dei toraci e anche alcuni piccolissimi addensamenti bilaterali. Nel frattempo, siamo arrivati a marzo, nel periodo di infalatici, facciamo di nuovo l'emocromo che mostra sorprendentemente una iperosinofilia che non aveva precedentemente. Quindi facciamo la ricerca per i parassiti, sirologia, tutto regale. Arriviamo ad aprile, nonostante inizialmente avesse avuto un livello di induramento della sintomatologia nasale con la terapia locale, lavaggi e steroidi, ha un episodio di cefalea molto importante con vertigini. Perde ancora peso, lo ricoveriamo di nuovo, gli osinofili sono sempre questi, vista oculistica, cardiologica, tiroide, insomma non emerge nulla, facciamo una risonanza in centro. Prima, scusate, mi sono dimenticata giustamente, la votazione otorino. La votazione otorino che mette in evidenza una rinossiose cronica, già lo sapevamo, ma soprattutto ci sottolinea la presenza di polipi. Alla risonanza viene confermata la pansiomusopatia ma nettamente peggiorata rispetto alla TC di praticamente un anno e mezzo prima. Lo vedete anche qua, si è in etimoidali strapieni, quindi marcata flogosi insieme ai paranasali, con l'otorino decisiamo di fargli fare terapia esteridea, antibiotica e poi di fare un conto all'OTC a distanza. Fa l'OTC dopo un mese, il quadro è migliorato ma come vedete ancora molto molto marcato. Ora, visto la storia, sintomi basse via aeree, tosse catarrale quotidiana, lassimosite, facciamo lo studio delle ciglia respiratorie e sorprendentemente, a parte non avere la discesi aciliare primaria, all'esame tutta strutturale ci viene detto che nel campione inviato c'è una quota enorme di osinofili e quindi già avete capito che alla diagnosi siamo già praticamente arrivati. Vi faccio presente che gli esami ematici ripetuti anche in quell'occasione non mostrano rialzo degli indici di flogosi nonostante quel quadro marcato di flogosi sinusale, gli osinofili sempre intorno ai mille ma il feno è molto alto, la proteina cationica degli osinofili anche, lo spuscio di sango periferico mostra l'iperosinofilia come in sintesi abbiamo fatto diagnosi di Churg Strauss quindi una poliangite interlumatosa osinofila quindi sulla base dei criteri diagnostici quindi 4 rispetto ai 6 classici storia di asma e osinofilia infiltrati polmonari e intensamento sinusale. Questo ragazzo ora fa terapia con mepolizma e sta decisamente meglio. Però per dire che in questo caso è stato abbastanza difficile però bisogna pensare anche a queste diagnosi che peraltro poi tendono a manifestarsi nel tempo non è facile fare diagnosi in 3 secondi come nel caso del nostro paziente. Quindi il messaggio quale voleva essere? Poliposi nasale certamente è rara dobbiamo cercarla laddove ci troviamo di fronte a questo quadro pensiamo a patologie sistemiche come la fibrosicistica ma anche ai vasculiti ma anche alla decinesi acidiale primaria e anche le non deficienze. Rispetto alla decinesi acidiale primaria vi ricordo che la poliposi nasale è abbastanza frequente vedete che il 10% dei bambini ha poliposi nasale e che la rinosinosite cronica è assolutamente caratteristica al punto che avere una TC dei segni negativa pone diciamo rende molto improbabile la diagnosi di ICP. Rispetto all'immunodeficit vi volevo sottolineare come nella rinosinosite cronica e nella poliposi nasale è importante usare le immunoglobuline quindi GN, G, A e G, G perché diciamo queste condizioni si associano proprio al deficit della risposta umorale quindi le immunoglobuline ma anche la risposta ai vaccini e attenzione anche a dare un occhio alle IgE perché di solito nei pazienti con deficit immunologico di questo tipo si riveva una riduzione anche dell'IgE ebbene rispetto all'eneguida per quanto riguarda queste patologie che abbiamo detto vedete che l'eneguida parla di una rinosinosite di tipo secondario che è diffusa nel caso di queste patologie bilaterale con meccanismo meccanico ICP ed FC ma non solo direi anche infiammatorio puramente infiammatorio quindi le vasculite come anche la Wegener vedete deficit dell'immunità e quindi immunodefici in particolare umorali attenzione alle forme secondarie unilaterali che però sono più tipicamente dell'adulto quindi forme odontogeniche forme fungine e tumori e questa me la faccio vedere perché secondo me è molto carina per farvi ricordarvi quali sono le diagnosi secondarie da tenere presenti per le forme primarie quindi l'endotipo flogosi di cui abbiamo visto prima l'eneguida distinguono vedete sempre forme unilaterali e bilaterali chiaramente ci si sofferma in particolare su quello bilaterale l'abbiamo detto all'inizio di tipo 2 o non di tipo 2 quindi poliposi nasale le forme fungine eccetera eccetera quindi quelle più classicamente filoallergiche diciamo le non osinofiliche ultima cosa è il trattamento molto velocemente perché in realtà ovviamente non avete capito tante cose ci sfugono di queste condizioni di ragnose usite dei polipi diciamo che tendenzialmente all'esordio di una condizione di questo tipo quindi una sinusite cronica che dura 12 settimane se non abbiamo un sospetto forte di ipertrofia dell'idea possiamo tentare un trattamento con cortisone cinosale per almeno 6-12 settimane se non funzionano valuteremo se andare all'otorino chiaramente sempre da pensare le diagnosi differenziali anche sulla base del resto della storia clinica del paziente per quanto riguarda gli step successivi l'otorino ci dirà se c'è l'ipertrofia dell'idea che merita di fare la denodiettomia spesso questo anche indipendentemente dalle dimensioni ma più dalla clinica del paziente come dicevo prima per quanto riguarda la denodiettomia poi vedete sostanzialmente nel bambino ci si alterna tra la diagnostica tra le varie condizioni e l'approccio medico soprattutto steroidi e lavaggi nasali nei casi che non rispondono alle varie terapie neanche la denodiettomia e nei bambini più grandi soprattutto se con poliposi va fatta la chirurgia endoscopica funzionale rispetto ai farmaci volevo sottolinearvi alcune cose la prima è che i quanti costeroidi nasali che sono appunto fondamentali per il trattamento di queste condizioni in realtà nel bambino non ci sono evidenze che funzionano per la poliposi ci sono nell'adulto ma le linee guida le consigliano le consigliano lo stesso perché sono farmaci assolutamente sicuri nel bambino utilizzati abbondantemente nella venite allergica questo chiaramente soprattutto se scegliamo uno steroide con bassa biodisponibilità e la vagina salida anche a dirlo in questo caso ci sono tante evidenze che dimostrano l'efficacia per quanto riguarda il resto gli antibiotici anche somministrati localmente non c'è nessuna evidenza che servano sia nel breve che nel lungo periodo anche se spesso un breve trattamento almeno all'esordio un breve trattamento antibiotico si tenta come è stato fatto anche nel nostro paziente preferibilmente insieme a steroidi sistemici quindi brevi periodi vi sottolineo che lo steroide sistemico va fatto solo insieme ad un antibiotico per brevi periodi ma che comunque non sembrerebbe appunto essere così fondamentali la denotelitomia come dicevamo nel bambino più piccolo la fessone più grande o con poliposi mi raccomando che se prescrivete lo steroide nasale ricordatevi di spiegare come l'ha fatto perché già spesso i pazienti non sono complianti ma se non fanno male non serve a niente le bombolette vanno agitate e deve essere il getto erogato lo vedete qui verso l'esterno non verso il rinofaringe ma verso i turbinati e non verso il setto nasale né il paziente deve soffiare dopo l'erogazione né deve tirare su col naso altrimenti ovviamente il farmaco non si deposita quindi è importante dare anche le indicazioni giuste rispetto al fatto che la terapia funzioni o meno dalle linee guida del 2020 è stato finalmente introdotto il concetto di controllo proprio come per l'asma per poter valutare se la rinossimusite è sotto controllo si valutano nell'ultimo mese questi sintomi quindi la struzione nasale la rinorrea o il post nasal drip il dolore al viso l'eventuale iposmia il problema di addormire l'eventuale endoscopia e l'eventuale l'utilizzo di trattamento in acuto steroidi o antibiotici e come vedete la rinossimusite è controllata pazzamente controllata o non controllata a seconda che sia presente una di queste manifestazioni o tre o più di queste quindi presente la maggior parte dei giorni della settimana e così via ma soltanto ve le potete scaricare queste sono liberamente disponibili però è un concetto nuovo che prima non c'era e che secondo me fa riflettere sul fatto che sempre di più queste condizioni si stanno avvicinando quantomeno per le forme primarie all'asma vi volevo anche sottolineare come una rinossimusite non ben controllata può dipendere certamente dalla compliance del primo problema certamente eventualmente da una terapia non ben impostata non ben spiegata dal fatto che ci può essere qualcosa della diagnosi che non abbiamo fatto correttamente ma attenzione dipende anche dalla diagnosi i pazienti che noi seguiamo con le cinesi aciliare primarie o i pazienti con fibrosicistica per quanto voi facciate lavaggi terapie nasali l'ostruzione nasale tendenzialmente non va mai via anche con la chirurgia questi pazienti facilmente recidivano purtroppo l'ultimo accenno lo faccio ai biologici perché i bambini ancora non li possiamo usare per la rinossimusite ma dato che appunto le nozioni rispetto all'endotipizzazione della rinossimusite cronica nell'adulto sono abbastanza avanzate per quanto riguarda la forma esinofilica ebbene si è provato esattamente come con l'asma ad applicare i biologici l'antige in realtà sembra non dare in particolare benefici l'anti L5 in realtà è stato provato su un unico studio in realtà con pazienti in gran parte asmatici qualche beneficio ce l'ha le linee guida europee dicono che potrebbe essere un'opzione almeno nei pazienti che rientrano nei criteri per la sua prescrizione che hanno anche poliposi nasale in sintesi diciamo che l'unico biologico ad oggi approvato per il trattamento da poliposi nasale è sostanzialmente il Dupinomab quindi il biologico che va contro la subunità alfa del recettore dell'internochina 4 praticamente questa subunità è a comune diciamo o meglio vediamo meglio qua ecco qua il recettore per l'internochina 4 e 13 sostanzialmente hanno in parte questa stessa subunità quindi con questo biologico andiamo a trattaccare entrambe le linee l'internochina 4 e l'internochina 13 e gli studi dimostrano assolutamente nell'adulto come questa terapia sia in grado di ridurre la dimensione dei politi e di ridurre la ricorrenza quindi effettivamente funziona chiaramente viene utilizzata nell'adulto solo nelle forme di poliposi bilaterale importante che hanno fatto la chirurgia e hanno recidivato e che hanno chiaramente i marcatori di sua cosinofilica e anche in questo caso laddove si utilizzi il biologico nell'adulto va valutato a distanza di 16 settimane l'efficacia del trattamento si può continuare se funziona e poi ancora una valutazione dopo un anno quanto puoi farlo chiaramente lo scopriremo strava facendo ultimi messaggi o meglio teco un messaggio di questa relazione è che la poliposi nasale e la rinosinosite cronica sono condizioni abbastanza rare in vita pediatrica di che necessitano dell'endoscopia per una diagnosi di conferma e di certezza che sono condizioni laddove presenti che ci devono far pensare sempre patologie sistemiche ma non solo alla fibrosicistica all'immunodeficenza alle vasculite eccetera che laddove non ci sia una di queste patologie ma ci sia una forma verosimilmente primaria quindi una rinosinosite cronica infiammatoria con poliposi nasale verosimilmente c'è una flogosi di tipo 2 e qui e che spesso nel bambino come nell'adulto questi si associano ad asma grave l'adenoide invece nelle forme del bambino più piccolo sono importanti per gli rinosinositi il trattamento di tutte queste forme deve basarsi sulla terapia medica con i corticosteroidi lavaggi con soluzione salina ma quello che è importante è che abbiamo una grossa grossa necessità di capire meglio tanti di questi aspetti ancora non sono chiari e certamente nel bambino siamo ancora all'inizio dello studio di queste condizioni mi verrebbe a dire che siamo anche all'inizio dello studio delle early origins della rinosinosite dell'adulto quindi secondo me nei prossimi anni ci sarà molto da studiare e da scoprire in questo ambito messaggio invece molto molto pratico se vi trovate di fronte a un bambino con rinosinosite cronica e poliposi nasale ricordatevi di fare qualche accertamento di minima quindi le prove allergologiche i test immunologici di base quindi del monoglobuline che abbiamo visto prima il test del sudore ed eventualmente la genetica per la fibrosi cistica e eventualmente il brascio nasale per la discesi acidale primaria chiaramente se ci sono sintomi suggestivi per quanto riguarda la cultura dei diciamo delle secrezioni dei seni questa ormai non viene fatta più se non in casi particolari quest'ultima parte secondo me è fondamentale qua c'è scritto possible consultation io toglierei possible secondo me tutti questi pazienti dovrebbero essere valutati in maniera multidisciplinare tutti insieme l'allergologo l'immunologo l'autorinolingoiata e chiaramente anche l'opremologo pediatra io con questo ho finito vi intanto vi saluto in attesa di eventuali domande vi ricordo che a ottobre si terrà il congresso della Simri in forma ibrida un po' in presenza e un po' online quindi speriamo di poterci vedere dal vivo spero abbiate sentito tutto perché purtroppo parlare da soli è sempre un po' no si è sentito tutto benissimo meno male è stato tutto perfetto allora negli strumenti di chat domande e risposte non sono arrivate domande al momento invito chiunque volesse farlo di scrivere appunto utilizzando questi questi strumenti mi rendo conto che l'argomento è stato molto molto intenso la presentazione veramente dettagliata e ha fatto un po' di luce su questo argomento ancora purtroppo purtroppo è un argomento secondo me fatto luce diciamo relativamente io direi che abbiamo fatto luce su tanti dubbi che abbiamo perché forse ecco diciamo che le neurosinti croniche legate a patologie sistemiche come abbiamo visto forse sono quasi più facili da un certo punto di vista quantomeno quelle classiche perché nelle vasculite come nel caso nostro non è sempre facile non è facile arrivare alla diagnosi anche perché gli autoanticorpi spesso sono negativi perché ci vuole del tempo per arrivare alle manifestazioni cliniche quindi non è per niente facile in qualche caso nelle forme queste primarie siamo ancora all'inizio in realtà non ne sappiamo ancora tanto nel bambino però secondo me uno dei messaggi che deve passare ai pediatri che ci stanno sentendo anche a chi non ha esperienza specialistica è che un bambino che ha una forza nasale cronica non dobbiamo subito porlarlo col classico paziente con l'ipertrofia dell'idea ciao cioè sicuramente magari è giusto metti di una terapia spero della nasale e rivederla a distanza ma quello che vorrei che passasse che è importante assolutamente l'invio all'otorino cioè l'endoscopia in questi pazienti l'ha fatta un test assolutamente eseguibile senza fastidi particolari certo il bambino non è felice ma non ha dolore ed è un esame veramente importante cioè oggi fa parte dell'esame obiettivo dell'otorino quindi bisogna inviarli bisogna cercarli altrimenti non li proviamo questo è poco ma sicuro certo nel frattempo è arrivata un'interessante domanda e le chiedono qual è il ruolo terapeutico della chirurgia sì allora giustamente non mi sono soffermata molto perché ci avremmo messo già ci ho messo un sacco ci avremmo messo anche di più allora la chirurgia come dicevamo sono sostanzialmente nel bambino due gli approcci chirurgici che si utilizzano il primo basale è quello relativo alla benedectomia rispetto alla sinusite cronica stiamo parlando la FES invece la chirurgia endoscopica funzionale è quella che si utilizza nel bambino più grande quindi più velocemente con poliposi nasale quindi diciamo che una volta fatto un tentativo medico perché comunque la terapia deve essere primariamente medica gli steroidi nasali c'era una una cocrane l'ho tolta perché era già troppo lunga la presentazione che dimostra quanto gli steroidi nasali sono estremamente efficaci nel ridurre la dimensione dei polipi e la sintomatologia quindi gli steroidi nasali insieme ai lavaggi nasali sono assolutamente la prima linea terapeutica laddove però chiaramente nonostante la terapia fatta bene perché ripeto spesso il problema è la compliance ma se viene fatta bene e non si riesce a risolvere il quadro chiaramente lo step successivo è l'otorino e l'intervento che funziona molto bene i polipi l'intervento non è particolarmente invasivo vengono portati via anche in maniera abbastanza semplice il problema è che spesso queste forme recidivano soprattutto queste osinofiliche così come quelle legate a patologie sistemiche però è assolutamente produzione valida prima la terapia medica poi quella chirurgica grazie mille allora se qualcun altro vuole fare qualche altra domanda alla dottressa noi siamo abbiamo ancora ancora tempo non so se se lei vuole precisare qualche qualche altra cosa nel frattempo ci sarebbe tanto da precisare io veramente nel fare questa presentazione ho tagliato un sacco perché allora è un argomento che a me interessa molto perché nella pratica quotidiana devo dire che diverse volte ultimamente mi è capitato di avere pazienti con poliposi nasale anche in maniera un po' in attesa quindi un paziente o meno te l'aspetti però poi quando la dottorina ti chiama dice ma guarda quello ha una poliposi nasale massiva rimane un po' così e quindi mi è piaciuto molto approfondirlo perché in effetti anche per formazione a parte ovviamente io grazie al dottor Piffini ho una grossa esperienza rispetto alla discinesi acidele primaria ecco su questi pazienti un'altra cosa che mi verrebbe da sottolineare come messaggio pratico è la rinolalia questi pazienti che hanno poliposi nasale sinusite cronica hanno la rinolalia marcatissima che non recidiva con la terapia soprattutto che diventano più grandi adolescenti e poi adulti quindi ecco da punto di vista prettamente proprio clinico come indici di sospetto l'astruzione nasale la rinolalia sono domande banali che però quando facciamo le visite andrebbero sempre fatti quindi il bambino ha voce nasale ha respira bocca aperta ha alito cattivo alla mattina tosse notturne tutte quelle cose abbiamo detto già solo per la parte di indice di sospetto sull'esame obiettivo non mi sono soffermata perché non c'era tempo non c'è tantissimo da dire ma qualcosina sì nel senso che questi pazienti spesso hanno un palato givale perché per l'astruzione nasale con la lingua spingono sul palato che quindi assume questa forma a tetto hanno se hanno allergia quadri di ipertrofiato di turbinati possono avere segni di dermatite insomma diciamo che anche l'esame obiettivo compresa la rinoscopia anteriore che accennava all'inizio possono essere d'aiuto quindi è chiaro che come sempre in medicina si parte da una donnesia curata a un esame obiettivo altrettanto curato ma in questo caso importante è che non dobbiamo avere la presunzione di dire sappiamo tutto noi abbiamo fatto noi noi arriviamo a un certo punto possiamo consigliere la terapia abbiamo scuso il paziente di allergico gli abbiamo messo una terapia nasale non migliora va affatto venire all'otorino e attenzione quando lo mandate dall'otorino dovete sempre precisare al paziente e anche quando fate la richiesta all'otorino che deve essere fatta l'endoscopia sembra banale ma alcuni otorini non lo fanno perché sono bambini non lo fanno quindi invece è importante che venga fatto bene sarebbe carino parlare anche delle limiti non allergiche a lungo cioè della citologia nasale perché c'è in tanti studi su queste forme osinofiliche mastocitarie che probabilmente sono appunto l'early origin della sinusica ma insomma io credo che ci sarà tanto da dire nei prossimi anni su questi aspetti che troppo tempo sono stati ignorati ma è un po' la storia dell'asma è un po' la storia della VPCO cioè ora cominciamo a capire che i problemi respiratori dell'adulto cominciano nell'età pediatrica ma è logico cioè dal nostro punto di vista lo è ovviamente per gli adulti un po' meno cioè stiamo cominciando adesso e il naso per tanto tempo è stato considerato come inutile sicuramente ci sarà spazio per discutere appunto di queste patologie di cui discuteva e sicuramente la Simli darà spazio all'approfondimento su questi argomenti che sono sicuramente di rilievo e di interesse per tutti Dottoressa io dal momento che non ci sono altre domande la ringrazio molto per essere stata qui con noi per aver fatto questa presentazione così comprensiva e approfondita di questo argomento per quanto siano le conoscenze attuali ovviamente e ringrazio tutti per aver partecipato e vi do appuntamento al prossimo al prossimo appuntamento al prossimo webinar Simli grazie a tutti grazie ancora per essere stato grazie a tutti se poi qualcuno volesse ottenere informazioni qua c'è l'inizio di mail insomma potete contattare come volete quando volete grazie a tutti grazie mille grazie ancora alla Simli grazie arrivederci 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 grazie a tutti grazie a tutti